consacrazioni al cuore immacolato di maria ventiquattresimo giorno consacrazioni dei carismi e dei doni dello spirito nel nome del padre del figlio dello spirito santo ame invochiamo lo spirito santo spirito santo ricordatevi di creare e formare dei figli di dio con la vostra divina e fedele sposa maria avete formato con lei e in lei il capo dei predestinati è con lei ed in lei che dovete formare tutte le sue membra voi non generate nessuna persona divina all'interno della divinità ma siete soltanto voi che formate tutte le persone divine al di fuori della divinità e tutti i santi che sono stati e saranno fino alla fine del mondo sono altrettante opere del vostro amore unito a quello di maria messaggio del 23 maggio 1985 cari figli in questo giorno vi invito in particolare ad aprire i vostri cuori allo spirito santo lo spirito santo particolarmente in questi giorni opera per mezzo di voi aprite il cuore e abbandonate la vostra vita a gesù affinché egli operi per mezzo dei vostri cuori e vi fortifichi nella fede grazie per aver risposto alla mia chiamata meditiamo Maria è il grande stampo di dio fatto dallo spirito santo per formare al naturale un uomo dio attraverso l'unione ipostatica e per formare un uomo dio tramite la grazia a questo stampo non manca nessun tratto di divinità chiunque vi è gettato e si lascia plasmare vi riceve tutti i tratti di gesù cristo vero dio in modo dolce e proporzionato alla debolezza umana senza troppe agonie e travagli in modo sicuro senza paura ed illusione perché il demonio non ha mai avuto e non avrà mai accesso in maria santa ed immacolata senza l'ombra del più piccolo peccato preghiera preghiera di consacrazione maria bellezza perfetta bella al di là della bellezza del più bello dei figli dell'uomo maria maria formata nel seno di anna dall'amore più perfetto che ci sia maria mia colomba mia perfetta nella quale non c'è macchia né alcun egoismo né alcun ripiegamento su di sé maria maria bella di dentro perché conformata alla sapienza che si è fatta un trono nel tuo cuore col tuo grembo con tutta la tua anima di madre o bellezza ti ho trovata e non ti lascerò più finché tu mi stringerai fortemente in te e Dio nasca alla perfezione alla forma perfetta di Cristo che attraverso l'abbraccio dello spirito alla sposa dello spirito sia impressa in me in maniera definitiva la somiglianza perfetta e che tutti i carismi i doni del padre dei poveri mi rendano la prima somiglianza fino alle nozze mistiche meraviglia di Maria il Signore venne in lei facendosi servitore il verbo venne in lei per tacere nel suo seno la folgore venne in lei per non fare alcun rumore il pastore venne in lei ed ecco l'agnello appena nato dal salmo 83 quanto sono amabili le tue dimore Signore degli eserciti l'anima mia languisce e brama gli atri del Signore il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente anche il passero trova la sua casa la rondine il nido dove dove porre i suoi piccoli presso i tuoi atri signore degli eserciti mio re e mio Dio beato chi abita la tua casa sempre canta le tue lodi beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente anche la prima pioggia la manta di benedizioni cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion Signore Dio degli eserciti ascolta la mia preghiera porgi l'orecchio Dio di Giacobbe vedi Dio nostro scudo guarda il volto del tuo consacrato per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli impi poiché sole e scudo è il Signore Dio il Signore concede grazia e gloria non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine Signore degli eserciti beato all'uomo che te confida meraviglia di Maria il Signore venne in lei facendosi servitore il verbo venne in lei per tacere nel suo seno la folgore venne in lei per non fare alcun rumore il pastore venne in lei ed ecco l'agnello appena nato Maria Regina della Pace prega per noi e per il mondo intero Maria Regina della Pace prega per noi e per il mondo intero Maria Regina della Pace prega per noi e per il mondo intero e per il mondo intero prega per noi per il mondo intero